Torna alla Sampdoria e mi ha sensazioni incredibili, comunque non mi aspettavo questa chiamata diciamo e comunque quando è arrivata sono stato contento. La società è una grande società, sappiamo tutto che comunque quella squadra è una grande squadra ma anche perché è un ambiente che conosco già quindi sono stato contento. Sono arrivato alla Sampdoria quando ero giovane in primavera e mi ricordo che comunque per un francese che comunque non conosce la lingua sono stato accolto benissimo, sono come se fosse entrato in una famiglia che comunque la gente ti aiuta, ti dà una mano sempre e sicuramente ha influito anche sulla mia scelta adesso che comunque so che adesso la gente mi darà una mano di nuovo. Rispetto a quando sono andato via quattro anni fa la Sampdoria adesso trova un giocatore che comunque ha preso tanta esperienza ho fatto una centina di presenze in B che comunque ti dà un campionato di alto livello e comunque la Sampdoria adesso trova un giocatore che spero sia pronto per giocare in A adesso. Sicuramente la presenza del mister Giampaolo mi ha aiutato tanto a fare questa scelta perché lo conoscevo già, ho fatto sei mesi con lui pieni, ho fatto anche qualche allenamento quando ero in primavera e sicuramente il suo modo di fare l'allenatore mi è piaciuto un sacco quindi sicuramente ha anche aiutato tanto la mia scelta. Conoscere i giocatori che stanno ancora qua sicuramente è un fattore positivo perché mi daranno una mano sicuro comunque anche quattro anni fa ci siamo aiutati tanti, anche con lei che era appena arrivato, cioè io quattro anni fa lo aiutavo diciamo a capire tutto quindi adesso diciamo che sarà il loro ruolo di aiutarmi e comunque conosco anche metà della squadra, anche gente che non c'era prima ma comunque De Luca, ho giocato con lui, Leris, tutti, quindi sono contento di conoscere la maggior parte della squadra. Ho lavorato tre anni per arrivare a questo punto, per arrivare in Serie A quindi il mio obiettivo è di giocare in questo campionato però vengo qua per aiutare la Sampdoria, vengo qua per dare una mano in ogni allenamento, dare il massimo e se fosse la domenica darò il massimo lo stesso. Un saluto a tutti i tifosi della Sampdoria, ormai adesso ci conosciamo già, ci vediamo allo stadio. Ciao!